Non si fa così, quando si va in un posto e si sa che si ha un'invadenza, non c'entra la censura, c'entra il buon gusto. Sei d'accordo Marco Travaglio? E chi ne esce peggio? Fedez, la Rai, la destra che non vuole questo DDL Zan? Ma guarda, io su DDL Zan filosoficamente mi ripugna l'idea che qualcuno venga trascinato in tribunale o rischi la galera per una cosa che ha detto, anche la più aberrante e lontana dalle mie idee. Quindi io farei delle leggi in questi casi che non prevedono galera, prevedono lavori forzati nel senso di obbligo di studiare a memoria le poesie di Sandro Penna o se questo è un uomo per quanto riguarda non gli omofobi ma gli antisemiti. L'idea che uno storico che nega l'olocausto faccia quattro anni di galera, come è successo in Austria, ma come può capitare anche qua, mi ripugna. Quello andrebbe preso a calci nel culo per qualche chilometro e costretto a studiare i veri storici che gli spiegano o magari a vedere i filmati, visto che ci sono anche i filmati della Shoah. Ma detto questo, tutto questo casino intorno al caso Fedez è nato dal fatto che la Rai ha cercato di negare la realtà. E meno male che Fedez aveva registrato la telefonata perché altrimenti sarebbe passato per un pazzo che si inventava che qualcuno avesse cercato di tappargli la bocca. Se fossimo in un paese normale dove i politici non parlano dei palinsesti televisivi, non nominano i dirigenti televisivi, dove la televisione di Stato è di Stato in quanto è dei cittadini e non del governo e dove c'è una fondazione come la BBC che si occupa di televisione e i partiti ci vanno chiedendo il permesso anziché sfondando le porte a calci, Il caso Fedez non esisterebbe perché così come Lady Gaga, Madonna e Beyoncé fanno le loro campagne di impegno civile nei concerti e dove cavolo gli pare, da noi i cantanti andrebbero sui palchi e direbbero esattamente quello che gli pare. Dopodiché i politici quello che gli pare lo devono dire in Parlamento e non devono fare i critici televisivi e occuparsi dei palinsesti e i dirigenti della RAI non devono negare l'evidenza perché se una tua vice ha detto a Fedez che certe cose il sistema non le avrebbe tollerate è inutile che vai in commissione di vigilanza a dire che c'è un complotto di Fedez, il complotto te lo sei fatto in casa, punto. Musica per le mie orecchie e comunque non avverrà mai che in Italia i partiti politici stiano fuori dal servizio pubblico, purtroppo. Allora vi faccio vedere il punto perché Paolo Pagliaro affronta...